presentati sono marcio bregante ho 32 anni sono nato a genova e adesso viva in veria quali sono i tuoi sogni i miei sogni sono avere un futuro professionale in linea con i miei studi scolastici sono diplomato sono perito elettrotecnico cosa ti ha spinto a partecipare a questo corso di formazione principalmente avere le conoscenze base per affrontare in serenità il lavoro ma soprattutto accedere al luogo di lavoro e ai cantieri in sicurezza cosa ti aspetti da questo corso per il tuo futuro a questo corso mi aspetto avere uno sbocco professionale sicuro nel campo della distribuzione dell'energia elettrica in quanto reputo che al giorno d'oggi sia il futuro in l'open school